Laura, la tua squadra, l'Under, oggi contro il Padova ha vinto 3 a 1, nella prima parte del primo tempo si è un po' complicata la vita, poi è venuta fuori, ha trovato il gol dell'1 a 0, l'era doppio subito dopo, poi nel secondo tempo comunque ha gestito, è riuscito a gestire e ha trovato il terzo gol, subendone solo uno. Sì, diciamo che nel primo tempo abbiamo iniziato un po' a studiare le altre, eravamo comunque messe bene in campo e non abbiamo rischiato molto, poi quando abbiamo fatto il primo gol su calcio d'angolo ci siamo un po' tranquillizzate e abbiamo iniziato a giocare e sono uscite anche delle buone azioni sulle quali abbiamo fatto il secondo gol su una palla lunga spizzata dietro e l'inserimento del centrocapista esterno. Quindi sono soddisfatta oggi perché subito siamo entrate concentrate in partita, non abbiamo commesso errori particolari, almeno forse qualcuno in difesa che però sui quali lavoreremo, però tutto sommato sono soddisfatta e contenta della prestazione. Sono 4-5 giornate ormai che giocano in questo campionato, stai conoscendo anche meglio tu e stai trovando anche sinceramente un'amalgama migliore rispetto all'inizio sicuramente. Sì, oggi abbiamo giocato con un modulo nuovo rispetto alle precedenti partite perché avevamo degli elementi diversi, visto che c'era anche Coghetto con noi. Quindi le ragazze comunque si sono subito adattate, hanno subito messo in pratica le cose che abbiamo provato in settimana. Quindi è un buon punto di partenza anche per le prossime partite, il sapere che comunque è possibile cambiare modulo senza poi avere conseguenze negative sul gioco, anzi contrario. Allora, siamo con Ilaria Mella, Ilaria 9 gol in campionato con quelli di oggi, soddisfatta? Direi proprio di sì, questi gol comunque vengono dall'impegno che ci metto durante le partite, cerco di aiutare le compagne e comunque poi i gol vengono da sé. È stato un po' complicato all'inizio perché dovevate capire bene come assestarvi un attimo con il modulo nuovo, come diceva il tuo mister. Come avete trovato poi il gol in una maniera semplice e anche e soprattutto il raddoppio tuo? Sì, all'inizio le abbiamo studiate, come ha detto prima il mister, però poi capendole abbiamo iniziato a giocare più rilassate. Infatti siamo riusciti a fare gol e ne siamo contenti per questo perché ci siamo sciolte alla fine. A chi dedica il gol? A tutte le persone che hanno creduto in me e soprattutto ringrazio anche al mister per darmi questa possibilità come titolare, cioè per giocare titolare, come titolare. Ariana Cartelli, allora come ti stai trovando in questa squadra? Stai prendendo man mano confidenza con le compagne e poi ci dici come hai visto oggi la partita? Sì, sto prendendo confidenza con le compagne. All'inizio, già da subito mi sono trovata bene perché sono tutte molto unite come gruppo, cosa che non era successa gli anni scorsi. Sì, sono molto contenta di questa cosa. Riguardo alla partita abbiamo, come hanno detto la mia compagna e la mister, subito studiato le avversarie e nonostante qualche errore di troppo siamo comunque riuscite a tenere testa questa squadra che è abbastanza forte. Ora in campionato allungate, le altre giocheranno sabato prossimo, le altre sfide comunque siete la sua in vetta? Sì, siamo la sua in vetta e siamo felici di esserlo. Certo è ancora presto per cantare vittoria però ce la possiamo fare, possiamo contenderci il titolo. Con l'impegno e la determinazione continuerete sicuramente a far bene? Assolutamente, quello non deve mai mancare e assolutamente questa cosa deve essere ripresa neanche nelle prossime partite. Non deve assolutamente mai mancare l'impegno e la determinazione perché alla fine è con queste che si vincono i campionati.